Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi nuovo video vlog, ho deciso che saremo insieme tutto questo weekend, non so ancora esattamente cosa dobbiamo fare ma cominciamo da oggi che è venerdì e mi è arrivata una cosina da La La Lab, ho un sacco di roba da fare, sono già in ritardo ma io voglio troppo incorniciare questo poster, cioè quanto è bello. Io in realtà con le foto di La La Lab avevo fatto questo a casa vecchia, però ci sono troppi colori e secondo me con l'arredamento che abbiamo qua non ci sta particolarmente bene, quindi ho deciso di farlo in verticale e tutto in bianco e nero, tra l'altro ho anche un 20% di sconto da lasciarvi, il codice non è affiliato, non ci guadagno niente però a me fa super piacere. Poi ragazzi stampate le foto ragazzi, ragazzi, oggi ragazzi così è come il dovere dell'uomo stampare le foto, non scherzo, io stampo sempre le foto, ne ho tantissime perché ho paura, cioè si brucia un hard disk, perdo le cose, poi così ce le ho sempre sott'occhio no? E ho preso la cornice da action, tra l'altro molto bellina, peccato che perderemo il profilo bianco perché la cornice è 50x70 quindi è giusta giusta per il poster. Alla fine è cambiato tutto, dopo scoprirete il perché. Partiamo benissimo, ho già bucato le calze. Dopo aver fatto il lavoro che dovevo fare ho fatto un saltino da Zara per provare qualche outfit, devo dire che mi piaceva molto questa con la pantaloncino, ma anche gli abiti lunghi ultimamente hanno il loro perché, cioè guardate quanto è carino e perdonatemi se ho dimenticato di fare il video in orizzontale. Comunque sono molto indecisa tra l'extracorto e l'extralungo, non so, periodo così. Ovviamente ho fatto danni. Ammetto che sono entrata anche da Bershka a Pull&Bear ma non c'era niente se non un gran casino, vi metto il video di Bershka, cioè è veramente pietoso, quindi non mi è venuta proprio voglia di cercare niente. Adesso sono da papà che andiamo a uno spaccio di calze che c'è qua vicino a casa nostra, almeno mi ricompro le calze marroni perché queste di Calzedonia, raga 10 euro, le rotti subito, mi scazza a rispenderle, lo dico proprio sinceramente. Questa sera cena Pull&Pork, gentilmente offerto da Lidl, con i hamburger, sembra molto tristi però sono buoni. Invento offerto un paio di palle. Nel senso che non ho cucinato io il Pull&Pork ma la pregetrice ad aria e l'ha fatto la Lidl e viene tipo così. Giretto da Ticotà, cosa che devo prendere amore? Non ci darà, guarda che abbiamo un meticcio. Anche questo, questo cos'è? Siamo andati anche da Action, abbiamo preso questo per Spad, non ho ancora capito come fa a capire quanto le cose siano per lui. Di chi è? Ti piace? Non romperlo in un secondo, mettici almeno un'oretta, grazie. E poi abbiamo comprato una bomboletta oro e questo quadro che voi saprete già come è andata a finire, se è rimasto bianco oppure oro perché l'avete visto all'inizio del video. Ormai come sempre la domenica è lavori in casa, abbiamo aggiunto questo quadro qua e adesso andremo ad aggiungere anche l'altro tra pochissimo. Vabbè le mensoline questa sera un po' sfruttata boh. E adesso via di pulizie con la nostra salvavita di Neko. Allora abbiamo deciso di creare l'angolo con questo che avevamo già, questo specchio che avevo preso tempo fa e unire lui così da aver tutto con un mezzo senso. Qua c'è un mobiletto e faremo la composizione su queste due pareti. Questo verrebbe qua così, va bene? Sì. Ok. Per forza. Anche perché si appende da un lato solo mi sa questo. Sì, un dritto sdraiato. No, un chiodino e via. Ok, alla fine il risultato finale è questo, quindi vabbè ci sta, carino. Devo trovare dei soprammobili da mettere qui perché questi così sono terribili, però vabbè, per il mentre questo è il risultato. E adesso vasca rilassante con questo spumone di Lush che ho praticamente finito, era la rennina di Natale, ma ne è rimasto poco niente. Stavo montando questo video e la parte finale è sparita, cancellata, chissà dove diavolo è, magari su un altro schedino, un'altra roba, non lo so. Io sono completamente disordinata in generale nella vita, anche sul computer, aprite il mio computer, non si capisce niente. Negli harddisk esterni poi non vi dico, cioè proprio, boh, non si capisce niente. Però vabbè, la vita è così, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con noi questo weekend. Tra l'altro ho aggiunto altri due mensoli nel studio, ma non ho ancora preso niente da mettere sopra, quindi sicuramente poi andremo a fare shopping. E da Zara non vi ho detto cosa ho preso, ma ho preso i primi pantaloncini, quelli a vita alta, la gonna a pantaloncino, da mettere un po' così sempre perché tiene bene dentro la pancia, mi piace la vestibilità e tutto quanto. E poi ho preso una maglia molto basic a Walter, marrone, che era per San Valentino, quindi fate voi quando è uscito questo video e quando ho registrato. Però vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con noi, sono un attimo indietro con la linea dei video, mi si è accumulato un botto di lavoro. Infatti questa settimana in realtà ci vedremo molto 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 spesso. E io vi saluto, vi ringrazio tanto perché io adoro girare i vlog, odio montare i video e quindi poi ci metto un'eternità. Però quando registro i vlog non mi sento sola, tipo vado da Rese, faccio i video, io non mi sento sola. Cioè mi sento che ci siete voi anche se lo vedrete dopo, non lo so, mi fate davvero compagnia, cioè non è uno scherzo quando dico che mi fate compagnia. E quindi niente, io vi aspetto nei commenti se vi va di chiacchierare insieme e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!